Lo shopping è il lobby preferito dei milionari! Compriamoli, Pinky! Ok, Nicky! Pinky ha già trovato quello che stava cercando, ma Nicky non riesce a decidersi! Aspetta! Perché scegliere quando puoi acquistare tutto? È ora di pagare! Vorrei avere più clienti così generosi! Ci vediamo, Nicky! Compro l'intera collezione! Sì, signorina! Ma non sono abbastanza! Nicky ne ha di più! Può anche far piovere soldi! Ma questa collezione è troppo costosa! Anche per una milionaria! La sua carta ultra mega d'oro è impotente! C'è una soluzione! Dì addio ai tuoi gioielli! Nicky ha i vestiti adesso! Ma non ha soldi! Nessuno può sapere questo terribile segreto! Pinky è piena di soldi! Nicky invece non se la passa molto bene! Cosa posso portarvi, ragazze? La cosa più costosa che hai! E io ho solo dell'acqua! Nicky sembra triste oggi! Ma il pranzo la tirerà su di morale! Ha un profumino così buono! Ma la milionaria povera avrà solo l'acqua! Ha un'idea! Il tuo tè, signorina! Nessun rancore! Lo faccio per il pranzo! Questo è scandaloso! Vado a fare un reclamo! Via libera! Ho proprio bisogno di un po' di cibo! Quante prelibatezze! Oh, sì! Nicky è soddisfatta! Ma questi brownie sono così soli! Niente può fermare Nicky! E Pinky riceve una grande sorpresa! Dov'è il mio cibo? Pinky sta per scoprire il segreto di Nicky! A meno che, ovviamente, non faccia qualcosa di subdolo! Eh, Pinky è stato il cameriere! Vai! A Pinky non piace essere truffata! Non verremo più in questo ristorante! Le milionarie sanno come divertirsi! Mi chiedo come stia Nicky! Nicky vorrebbe riposarsi, ma oggi deve lavorare a una festa per bambini! Oh, qualcuno sta chiamando! È Pinky! Devo nascondere la mia povertà! Quanto devo aspettare? Ciao, Nicky! Sono sulla spiaggia! Come va? Eh, ciao, amica! Eh, ops! Anch'io sono in vacanza! Wow, è davvero bello lì! Oh, sì! Tanta sabbia e palme! Cosa altro potrei sognare? Ehi, Nicky! Andiamo a giocare! Eh, Pinky! Devo scappare! Sta iniziando un party! Nicky si comporta in modo strano oggi! Ma non importa! Lasciamo che l'amica si diverta! Nicky sta affrontando una vera battaglia per il telefono! Calma! Nicky, tocca a te! Ed ecco i tuoi soldi! Vai! Non è un milione, ovviamente, ma va bene lo stesso! Ragazze, pronte a giocare? Allora nascondetevi! Nicky, il pirata, vi troverà! Oh, i primi soldi che abbia mai guadagnato! Wow, un concerto di Lucy! Ci saranno tutte le celebrità! Questo è il mio biglietto VIP! Non posso perdermi un evento come questo! Entra, signorina! Buona serata! Anche Nicky ha un biglietto! Un biglietto fatto in casa? Ma stai scherzando? No! Per favore! No, punto! E se... Ecco un'idea! Fammi passare immediatamente! Scusami, devo fare un concerto! Qualcosa non va! Non assomiglia per niente a Lucy! E adesso... Va meglio! Sei proprio come lei! Entra! Sì, ce l'ho fatta! Musica, aspettami! Ma c'è un problema! Anche la vera star è qui! Dove stai andando? Non vedi? Sono io! La magnifica Lucy è già in sala! E tu sei una truffatrice! Che guardia severa! Ma la vera Lucy sa cantare! Ci credi adesso? No! So farlo anch'io! Niente concerto per te, tesoro! Spiacenti! Spettacolo annullato! C'è il pigiama party stasera! Hai visto, Nicky? Il problema dei peli deve essere risolto! Corre nella sua spa privata! Vieni con me? Pinky! Vado nella mia spa! Ci vediamo dopo! Le cose non vanno bene nemmeno per Nicky! Non ha soldi! Quindi dovrà trovare un altro modo! È un'emergenza! Un disastro! Niente panico! L'estetista dei VIP ha visto di tutto! Nicky ha un intero bagno da usare! Bene! Iniziamo a pensare! Cosa faccio con i peli? La ceretta diamantata fa miracoli! Non fa affatto male! Solo un po'! Beh, cosa posso fare? Scotch! Va meglio! Testiamo l'idea di bellezza! Attacca e poi... Strappa! Oh, perché fa così male! Questo tipo di ceretta è pericoloso! Mi serve subito un cerotto! È ora di cambiare il pigiama con qualcosa di più carino! Wow, il vestito è semplicemente stupendo! Pinky è una regina adesso! Che ne dici di un tatuaggio luminoso sulla schiena? Proprio qui! Nicky può fare tutto da sola! Bel trucco! Manca solo un tatuaggio temporaneo! Nessuno penserebbe mai che Nicky sia al verde! Ora facciamo un paio di selfie! Anche Pinky è a posto! Wow! Un tatuaggio di cristalli Swarovski! È stupendo! Lo adoro! Niente soldi per un salone di lusso! Usa il tuo ingegno! Non ronzate, ok? Rimpolpare le labbra con le api? Ahi! Beh, la bellezza è dolore, vero? Oh, spero che i risultati siano buoni! Anche Pinky vuole le labbra carnose! Nessun problema! I sieri costosi fanno miracoli! Bene! Ci siamo quasi! Wow! Perfetto! Ecco chi arriva, Nicky! Sembra che le ricette della nonna non le siano servite a niente! Cosa c'è che non va in te? Devi cambiare salone di bellezza! Anche i ricchi hanno gli incubi! E la loro paura più grande è di rimanere senza soldi! La cassaforte! Cos'è successo? Ah! Che male! Ahimè! La ricchezza può far male! Oh no! È successa una cosa terribile! L'ultimo dollaro! No! Chi ha commesso questo crimine? Sono là! Mi stanno derubando! Oh no! Non i miei gioielli! Come osano! Lasciate il quadro! Altrimenti... Signora! Quello è mio! Vedi? Non provarci nemmeno! Lo prendo io! E tu! Non prendere il mio albero dei soldi! Ok! Lo scambierò con la tiara! Incredibile! Non c'è più niente in casa! Nemmeno il televisore! Ma c'è qualcosa di peggio! Pinky! Dovrà indossare degli stracci! Aiuto! Salvatemi dalla povertà! Ma ogni incubo a un certo punto finisce! Oppure no! Sarà così per sempre! Tutto ok! I vestiti sono qui! E anche i miei soldi! Ma la ricchezza è una cosa fantastica! Per fare un po' di soldi, devi mostrare i tuoi talenti! Forse può provarci anche Nicky! Tieni! È un regalo! Adesso sono ricco! Ora o mai più! Suonare il tamburo non è affatto difficile! Nicky sta per fare il suo primo milione! Ma il suo lavoro non impressiona nessuno! Datemi dei soldi e chiedere troppo! Ma questo canto è impossibile da ascoltare! Deve adottare un approccio diverso! Pagatemi e smetterò di cantare! Oh sì! Ha funzionato! Gli affari vanno a gonfie vele! Non sapevo che il silenzio potesse valere così tanto! Ciao ragazzi! Tornate presto! Fantastico! Oggi è un grande giorno! La ricreazione è il momento migliore per sfoggiare i nuovi vestiti! Ciao Nicky! Oh, cos'hai lì? I gioielli fatti in casa sono così... Da poveri! Non è così che facciamo alla scuola dei ricchi! Ma Nicky ha un asso nella manica! Guarda, amica! Ecco cosa indossano le star! Wow! Si scopre che la povertà è diventata di moda! Una rivista piena di immagini false è un'ottima strategia di marketing! Nicky, anche noi li vogliamo! Nessun problema, ragazze! Prendete e siate alla moda! Wow! Anche la signorina Penny vuole essere alla moda! La lezione tanto è rovinata! Adesso ci facciamo dei selfie! Nicky, posso averne uno? Soldi sul tavolo, Miss Penny! Presto Nicky sarà di nuovo ricca! È arrivata sera! Non c'è niente in tv! Aspetta! Nicky, quella è la novità più eccitante di sempre! 16 telecamere! Qualità super mega! Chi comprerà questo miracolo? Tu? O forse tu? Sbrigati! Pinky deve essere la prima in tutto! Nicky invece non ce la farà! E abbiamo la prima cliente! Prima i soldi! Certo! L'alta tecnologia costa! Fate un applauso a Pinky! Adesso è lei, quella super trendy! E chi non ha comprato un nuovo iPhone non è un milionario! Come osano! Nicky deve pensare a qualcosa! Il piano è già in atto! Ora il vecchio telefono si trasformerà in uno nuovo! È facile! E l'amica ricca sarà scioccata! Nicky, dove hai preso quella novità? Ma niente di che, Pinky! Ma i miei contatti! Non è giusto! Pinky non è più l'unica proprietaria del nuovo iPhone! Non essere tristi, amica! Può succedere a tutti! Sono così stanca di essere povera! Wow! Che bel ragazzo! Quello è un ragazzo con i soldi! Devo conoscerlo! Ehi! Sono qui! Guardami! Ma quel principe non è molto eloquace! Non c'è modo di raggiungere i milioni! Ops! Sembra che ci sia una rapina in corso! Non fare l'eroe! Dammi i soldi! Certo! Lasciami andare! Polizia! Aiuto! È finita! I soldi non possono essere salvati! Ma Nicky entra in scena! Salverà il bel milionario! E stai giù! Per ora tratterrò i soldi! È un K.O. È tua, signore! Grazie! Sei così coraggiosa! E c'è un premio per gli eroi! Ecco un regalo per te, dolce signorina! No, non è necessario! Prendili! Ora Nicky ha tanti milioni! E a quanto pare, anche un nuovo fidanzato! Vuoi visitare il mio castello? Volentieri!